Piacentino, ventennobriaco, finisce in manette dopo aver aggredito quattro poliziotti ferendoli. È successo ieri pomeriggio al pronto soccorso, dove il giovane pregiudicato era stato portato a causa del suo stato di ebrezza e dove aveva dato in escandescenza, costringendo i sanitari a chiamare il 113. Quattro gli agenti feriti e medicati con prognosi tra i 7 e i 15 giorni per varie distorsioni. Il giovane è stato arrestato per resistenza, lesioni e minacce a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e per essersi rifiutato di dichiarare le sue generalità. Denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, un ventenne albanese che era al pronto soccorso con il Piacentino e che si è schierato al suo fianco.